Credo che sia un po' tutto nato su tante idee, l'idea di fare un torneo con Barcellona Real e crearlo per MSC Crociere, a Barcellona una cosa sempre legata a Fondazione, in un discorso si parlavano ai tempi Laporta e ai Gagliani per voler fare una cosa di beneficenza, questa è una delle prime cose che facciamo di beneficenza, poi MSC insisteva dicendo ma c'è il Genova che è da un po' di anni che fa una crociera rosso-blu, perché non facciamo una crociera rosso-nera? Abbiamo unito un po' il tutto, abbiamo unito la situazione del torneo a Barcellona, c'era questo varo, questa nave splendida a Barcellona, abbiamo unito tutti i ragazzi, gli ex ragazzi ormai, le Milan Gloria che volevano partecipare, che volevano fare il torneo, o che volevano vedere il Varo, o che volevano fare la crociera e credo che sia venuta una bellissima cosa. Musica Dalla nave al Palablaugrana i rossoneri sono arrivati qui, si stanno riscaldando per la prima fase del torneo quando affronteranno proprio il Real Madrid. In questo momento sono in campo, è il momento del riscaldamento e poi inizierà finalmente il torneo. L'accoglienza è stata grandiosa da parte di tutti i tifosi che sono arrivati al Palablaugrana, tantissimi autografi ma anche tante foto. Il più gettonato ovviamente Demetrio Albertini ma anche Arrigo Sacchi. C'è Sant'Iana. C'è troppo confo. C'è un po' di caldo. Non mi vieni così. Guarda che sono tutti così. Andiamo, andiamo, dai! Andiamo! Andiamo! Tutto! VAMOS! Sono caldo! VAMOS! È arrivato Stefano possiamo iniziare, vai! Alla grande! Il nostro odore si chiama Fedelità! percepiti Sì! Uff! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.